Gela oggi si è mobilitata ed è scesa in piazza per lo sopiro generale proclamato dal Consiglio Comunale in difesa della raffineria dell'Eni. Una folla oceanica ha invaso il corso principale della città. Il corteo è partito da Via Palazzi nei pressi dell'ospedale Vittorio Emanuele per concludersi in piazza Municipio. C'erano i lavoratori dell'indotto e del diretto che da più di una settimana presidiano le vie di accesso alla città. C'erano i sindaci dei comuni del comprensorio, il clero gelese, gli avvocati del foro di Gela, gli studenti, i commercianti, i docenti. Tutti, insomma, negozi chiusi. Oggi il territorio sta rappresentando delle difficoltà reali perché oggi sono scesi in campo liberi professionisti, sono scesi in campo operai, studenti. Diciamo che tutta la città è presente e non solo la città di Gela ma anche la città dei territori vicini. Quindi è un intero territorio che soffre, che sta chiedendo una cosa molto semplice. La possibilità di vivere e per poter fare questo vuole avere regole certe. Queste regole lo può dare solo il governo centrale che finalmente deve prendersi carico di un'intera collettività. Qua abbiamo bisogno di risanamento ambientale, abbiamo bisogno di una rindustrializzazione. 60 anni fa qualcuno ci ha imposto un modello economico che non era naturale per il nostro territorio. Dopo 60 anni decidono di staccare l'interruttore lasciando praticamente un intero territorio senza il suo cuore pulsante economico. Questo non è possibile, lo sviluppo di un territorio passa anche dalla pianificazione e dall'organizzazione. Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia. È solamente una mobilitazione generale per una città che ha bisogno di risposte e per una città che sappiamo che ha tantissime risorse e che deve solo trovare il modo giusto per portarle avanti. Sicuramente il problema principale è l'occupazione, lo sappiamo tutti. Abbiamo dei lavoratori, i lavoratori dell'indotto sono solamente una piccola parte di gente che sta vivendo dei problemi occupazionali, ma sappiamo che molte imprese stanno chiudendo, sappiamo che molti negozi sono in difficoltà e diverse attività commerciali. Tutti in famiglia viviamo un dramma o di salute o di occupazione. Quindi è l'ora di dare delle risposte, è l'ora che il governo ci aiuti, ci aiuti per delle bonifiche, ci aiuti per una ristrutturazione e una riconversione della città. Domani intanto a Roma è prevista una riunione al Ministero del Lavoro dove sono stati convocati il sindaco di Gela e il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. Ieri sera a Palermo, proprio con Crocetta, i sindacati hanno concordato i provvedimenti da chiedere anche per quei 70 operai che da sette mesi non hanno più né lavoro né indennità di sostegno. Per aiutare le imprese che chiedono la cassa integrazione sarà chiesta la decontribuzione della quota addizionale al loro carico ed il ricorso ai prevenzionamenti agevolati. Infine sarà lanciata la proposta di affidare al governo la gestione dell'area di crisi di Gela attraverso la nomina di uno commissario straordinario. Grazie.